Il 10 novembre Che c'è da urlare in questo modo? Quando Bosco Allegro è in pericolo Un gigante È il momento di chiamare La squadra N Gongolo Brontolo Pisolo Mammolo Eolo Cucciolo Sconforto E Totto Sì, semplice, semplice I 7N Quando il dovere chiama Lanciamo un incantesimo I 7 piccoletti arrivano Al castello Dal sottosuolo Per fortuna siete qui Sono i 7N Una nuova serie Dal 10 novembre alle 7 di sera A Disney Junior